Nel numero di maggio di Sentire Meglio, l'ultimo articolo è dedicato a una storia. Io amo le storie e ancora di più amo le storie vere. Questa è la storia incredibile di Helen Keller, una bambina che da piccolissima a causa di... sembrerebbe una meningita, dico sembrerebbe perché si tratta di una storia degli inizi del Novecento, è rimasta cieca ed è rimasta sorda. Ma tu potresti pensare come fa a vivere una bambina cieca e sorda all'inizio del Novecento, come fa? Ma non solo lei ce la fa, non solo impara a parlare, e già questo meriterebbe diciamo un libro, ma impara più lingue, impara tantissime lingue, va all'università, si laurea in giurisprudenza, ha una vita incredibile e durante la sua vita viaggia moltissimo e difende i diritti civili dei più deboli. Quindi questa è una storia veramente importante che ti dà l'idea di quanto per questa ragazza sia stato importante lottare per poter comunicare con gli altri. Molto spesso noi diamo per scontato le nostre abilità di comunicazione, e pensiamo che l'udito, beh, sentire sì è una cosa che mi permette di parlare con gli altri. In realtà è un qualcosa di veramente molto prezioso. È solo quando ci imbattiamo in queste storie che ci rendiamo conto di cosa significa veramente poter sentire bene e cosa significa veramente poter comunicare con gli altri.